siamo abituati ad essere bombardati su youtube da video che ci parlano della tecnica migliore per ottenere un certo tipo di risultato la tecnica migliore per ottenere un grande bianco nero il miglior modo di fare questo e quest'altro quindi ognuno propone a modo suo diciamo dei dei segreti come diciamo svelare un segreto una tecnica oculto come in kenshiro per ottenere un risultato prima e meglio degli altri io invece vorrei concentrarmi più che su una tecnica precisa anche se diciamo tratterò una tecnica in questo caso in particolare vorrei concentrarmi più sull'aspetto sull'obiettivo da porsi cioè quello a lunga distanza l'obiettivo di migliorare di acquisire più che ma appunto il segreto della tecnica perfetta per il ritocco della pelle in modo un po forse un po più onesto direi che quello su cui bisogna concentrarsi è l'abilità da acquisire nel tempo che non è qualcosa che si acquista guardando un video su youtube o guardando questo video ma è un'abilità che va acquisita nel tempo attraverso la continua esercitazione e magari il modo giusto di esercitarsi perché a volte ci si esercita magari anche nel modo sbagliato quindi semplicemente un modo di abituarsi a lavorare in maniera costante in modo tale appunto da sviluppare da allenare l'occhio affinare la capacità percettiva visiva insomma dell'occhio e anche quindi la mano ora io uso una tavoletta grafica quindi la penna grafica per il ritocco cioè per tutto ormai il mouse non lo uso più e quindi userò un pennello per questa tecnica con determinate impostazioni che mostrerò per chi invece usa il mouse magari consiglierò delle diverse impostazioni allora in questo caso non andrò a concentrarmi perché quando parliamo di ritocco della pelle parliamo di tante cose parliamo di pulizia delle imperfezioni ad esempio queste venuzze nell'occhio non parlerò di ritocco in questo senso cioè di andare a fare pulizia di quelle che possono essere queste venuzze o di qualche taglio cicatrice o neo o altro ma andrò a parlare più che altro del di ciò che si fa normalmente per appianare alcune differenze grossolane o anche minute di luce ed ombra come possono essere delle occhiaie delle borse delle rughe delle deformità della pelle in qualche modo qualche osso troppo sporgente oppure delle rughe sotto il collo delle dei segni della bronzatura sul petto quindi luce e ombra ok quindi parto con un banalissimo dodge and burn fatto con due curve una e due due livelli curve il primo vado a schiarire i mezzi toni penso che questo lo conosciamo tutti e inverto la maschera con command contro i invert il secondo invece vado a prendere i mezzi toni ad abbassarli e inverto anche qui la maschera questo qui in cui ho scurito lo chiamerò burn brucia e questo di sotto dodge oppure se preferite insomma essere italiani schiarisci dodge e burn sta per scurisci ok quindi vado a prendere un pennello io mi sono non parlerò qui di come si salvano i pennelli di come si creano i pennelli io ho creato un pennello apposito con determinate impostazioni appositamente per il dodge and burn che ho chiamato dodge and burn no dynamic vabbè 4 per cento di flusso quindi ho 100 per cento opacità e 4 per cento di flusso queste sono le impostazioni del del pennello con il trasferimento tutto settato sulla pressione della penna questo è il grande uno dei grandi vantaggi di avere una penna grafica e anche la variazione del flusso sulla quindi opacità e flusso sono regolati anche dalla dalla pressione da quanto vado a zappare sulla sulla penna quindi comincerò a lavorare sulle occhiaie quello che quello che consiglio è di abituarsi fin da subito e quindi a sviluppare in futuro un modo di lavorare con una visualizzazione del dell'immagine più lontana possibile o per lo meno direi di partire consiglierei di partire da qui quindi in questo modo noi abbiamo sempre un controllo della situazione per evitare che poi vengano fuori quegli artefatti quegli effetti strani quelle deformità della pelle che quando vengono poi criticati si risponde no ma guarda che se vai a zoomare al cento per cento c'è tutto è tutto a posto non c'è nulla che non va e sì peccato che le fotografie poi le guardiamo nel loro nella loro completezza nella loro totalità quindi questa è una delle abilità che bisogna sviluppare secondo me cominciare a lavorare da lontano se si può dire così senza andare troppo a zoomare si va a zoomare invece quando si devono fare altre operazioni tipo se devo andare a rimuovere questa venuzza qui è chiaro che dovrò zoomare perché dovrò usare un timbro eccetera invece in questa tecnica dodge and burn si utilizza soltanto il pennello un pennellino bianco nel 90 per cento dei casi bianco nero soltanto quando si vuole cancellare l'operazione fatta la pennellata fatta quindi col pennello bianco vado per schiarire e mi metto in prossimità delle ombre delle occhiaie perché non sono altro che ombre riduco la dimensione del pennello per farlo rientrare all'interno dell'ombra dell'occhiaia e comincio a pennellare senza calcare troppo la mano all'inizio con queste con queste impostazioni ci sembrerà di non fare nulla perché tra l'altro per chi avesse il mouse consiglio di spostare anche l'opacità di rendere anche l'opacità molto bassa il flusso anche volendo insomma tra opacità e flusso di non superare il 10 per cento quindi consiglio di cominciare a lavorare in questo senso quindi si parte partirei dalle dalle ombre per poi arrivare sulle luci un'altra cosa che si può fare per agevolare questo cammino questo percorso che sembra lento ma in realtà se lo facciamo ad una certa distanza diventa più rapido potrebbe essere qui per esempio in corrispondenza di questa di questa occhiaia premere il tasto r di roma rotate ruotare il quadro riprendere il pennello e questo mi accompagna nel movimento del della penna perché avendo una penna in mano questo diciamo è l'andamento preferito immaginate di avere una penna qualsiasi in mano è più facile fare dei tratti così che non invece in questa direzione opposta perché significherebbe muovere tutta la mano in senso opposto quindi in questo modo vado a schiarire l'occhiaia e dove c'è da scurire invece vado nella maschera superiore che si trova a livello superiore e vado a scurire eventualmente ora a volte potrebbe non essere facilissimo vede notare queste differenze di luminosità quindi è consigliabile per esempio qui ho una ruga che da vicino sembra piccolissima da lontano sembra già occupa una porzione più grande torno nella maschera che della curva che schiarisce e vado a schiarire sembrerà di non fare nulla ma in realtà si sta facendo tanto perché se vado poi a fare il prima e dopo guardate qui anche in fronte raggruppo innanzitutto questi due livelli con shift li clicco tutti e due command g di genova o di gruppo e lo chiamo il gruppo di nb lo jimber quindi faccio un prima e dopo è già noto una certa differenza molto naturale e non invasiva se vogliamo essere più vogliamo notare meglio questi difetti vengono generati al di sopra del gruppo del john burn si può creare un altro gruppo di livelli o anche un unico livello di bianco e nero che ci toglie il colore quindi ci toglie la distrazione del colore e si fa per esempio si può fare in tanti modi o un livello direttamente un livello bianco e nero dove si vanno poi a contrastare normalmente si toccano soltanto nella pelle i rossi e gialli portando i rossi in basso i gialli un po più in alto in questo modo non si notano meglio diciamo i difetti oppure si potrebbe fare si potrebbe fare butto questo livello si potrebbe fare un livello un semplice livello tinta unita scegliere un colore qualsiasi c'è chi dice di scegliere il 50 per cento grigio ma è una cavolata perché si può scegliere anche il nero o il bianco in questo caso scegliere un colore qualsiasi acromatico quindi privo di tinta e di saturazione dare l'ok e metterlo in fusione invece che normale colore così abbiamo trasformato la foto in bianco e nero mantenendo tutti i rapporti di chiarezza tra i colori i naturali rapporti di chiarezza tra i colori e tra i toni della pelle dell'immagine e sotto di questo ci posso fare per esempio una curva per andare a schia a scurire le alte luci per esempio o posso creare un contrasto nella curva per accentuare la visibilità dei difetti se chiude troppo le ombre magari le apro un po e vado a schiarire un po le alte luci insomma cercare una un compromesso per aumentare la visibilità dei livelli anche qui lo metto nel gruppo e lo chiamo tempo un gruppo temporaneo che poi andrò a buttare volendo questa curva posso anche cambiare l'opacità se vedo che troppa perché tanto ho sempre il livello di desaturazione in alto e quindi con questa curva attiva posso continuare il lavoro ad esempio qui mettiamo il caso che voglio appianare queste differenze date dai segni della bronzatura ruoto il quadro prendo pennello bianco naturalmente nella maschera del livello curve dodge no scusate burn perché devo scurire e vado a scurire in questo modo sto scurendo tutta quella parte un po che era un po più luminosa e poi magari vado scendo vado a scurire a schiarire cioè quella parte leggermente in ombra sembra un lavoro lungo ed estenuante ma in realtà lo è nostro scherzando è chiaro che quanto più si va avanti quanto più ci si abitua a questa tipologia di interventi è chiaro che se pensate di andare per esempio qua anche sul collo vediamo questa ruga vado in burn scurisci quindi bisogna essere anche veloci a capire se dovete andare in burn o in dodge schiarisci o scurisci vedo luce quindi scurisco scurisco questa cura questa ruga sotto il collo poi si può andare sempre più di fino però è chiaro che se vi ponete dall'inizio come obiettivo quello di fare dodge and burn micro dodge and burn sempre a queste distanze primo non finite più ci mettete otto mesi e in più non non è garantito che poi guardando l'immagine come si vedrebbe in miniatura nel feed di instagram non vengano fuori delle degli abomini dei disastri schiarisco qualche piccola ombra ok qui anche sulla fronte si potrebbe continuare un po non andrò a farlo tutto il lavoro però diciamo che volevo soffermarmi su quelle che sono appunto le abilità da sviluppare con questa tecnica ok adesso tolgo il livello altra cosa se notiamo che è cambiato un po il colore ad esempio nell'occhiaia cosa che accade a volte a furia di fare questo dodge and burn si può inserire sopra il livello di burn un livello vuoto nuovo livello vuoto mettono infusione colore e andare a campionare un colore con cui vogliamo rendere tutto uguale da un punto di vista cromatico quindi che ne so clicco un punto qui e vado a pennellare in questo caso è proprio minima la differenza neanche mi piace ok prendo un altro arancione un po più saturo e vado leggermente ad appianare quelle che possono essere delle conseguenze di un eccessivo dodge and burn ok questo poi si butta questo gruppo temporaneo perché non ci servirà più e questo più o era il tentativo diciamo la dimostrazione quindi lavorare 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 zoom out zoom out quanto più potete e ciao